1 Samuel 17 Leggeremo dal verso 26 Così dice la parola del Signore Davide, rivolgendosi a quelli che erano vicini, disse Che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, questo incircorciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente? La gente gli rispose con le stesse parole di prima, dicendo Si farà questo e questo a colui che lo ucciderà Eliabe, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente Si accese d'ira contro di lui e disse Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore Tu sei sceso qua per vedere la battaglia Davide rispose Che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda Poi allontanandosi da lui si rivolse a un altro facendo la stessa domanda E la gente gli dè la stessa risposta di prima Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saulo Che lo fece venire Davide disse a Saulo Nessuno si perde di animo a motivo di costui Il tuo servo andrà e si batterà con quello filisteo Saulo disse a Davide Tu non puoi andare a battere con quel filisteo Poiché tu non sei che un ragazzo E di egli è un guerriero fin dalla sua giovanezza Davide rispose a Saulo Il tuo servo pascolava il grege di suo padre E tavolta veniva un leone o un osso O orso a portare via una pecora dal grege Allora li correvo dietro Lo colpivo Li strappavo dalle fauce la preda E se quello mi si rivolta contro Lo afferravo per le macella Lo ferivo e lo ammazzavo Se il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso Questo filisteo incirco ucciso sarà come uno di quelli Perché ha coperto di vergogna Le schiera dei Dio viventi Davide soggiunse Il Signore che mi liberò dalla zampa del leone Dalla zampa dell'osso Mi libererà anche dalla mano di questo filisteo Saulo disse a Davide Va e il Signore sia con te Fin qui la parola del Signore Un brano veramente molto intenso Molto incisivo nelle sue parole Sicuro che si possono togliere diversi pensieri Diversi punti da questo brano Ma quello che abbiamo scelto anche come gruppo Oggi in questa mattina È parlare di responsabilità Principalmente per noi giovani Ma questo tocca non solo i giovani Questo tocca a tutti noi Avere responsabilità Responsabilità con la chiamata che Dio ha fatto a ognuno di noi Responsabilità con la vita cristiana Responsabilità quel compromesso Con la parola che noi abbiamo impegnato verso Dio Quando abbiamo preso le nostre decisioni di seguire Lui E avere responsabilità in generale in tutto questo Perché io credo che oggi Esiste una grandissima insoddisfazione nei nostri mesi cristiani Perché i credenti oggi cercano Dio Affinché Lui sostengono loro O che sostegni noi Nei nostri propri desideri Nei nostri propri sogni Invece di cercare Dio Affinché noi facciamo la sua volontà Affinché noi capiamo Affinché noi cerchiamo lo Spirito Santo e la sua guida Affinché noi capiamo Qual è la sua chiamata A capire perché Dio ci ha creati Perché Dio ci ha messi su questa terra Perché Dio ci ha messi in questo luogo In questa città In questa comunità Affinché noi capiamo dal Dio Che usiamo la nostra spiritualità Per questo E non per cercare solo in Dio Spesso cerciamo in Dio solo un modo Un metodo Come Lui può Benedire E fare qualcosa per noi Perché la Bibbia dice Che una delle principali cose Che lo Spirito Santo ci rivela E è venuta a dimostrare a noi È che noi non siamo figli della carne Noi non siamo figli di volontà umana Noi siamo figli di Dio Perché ogni cosa che è nata nella carne La Bibbia dice che non giova a niente Allora ogni pensiero Ogni cosa che noi abbiamo Partendo da noi stessi Non giova a niente Allora vivere la vita cristiana Non è avere i miei sogni E i miei desideri Sostenuti da un Dio onnipotente Che può fare per me Ma sì vita cristiana è Avere tutti i nostri sogni e desideri Sostituiti Per la volontà eterna di Dio Questa sia la vita cristiana Perché Peccato Non è solo fare un sbaglio Peccato non è solo sbagliare Peccato è Ogni cosa che io faccio Fuori dalla guida di Dio Ogni cosa Ogni pensiero che io ho Che non è d'accordo Che non è nato Nella volontà di Dio È peccato E non interessa se l'idea è buona o no Perché spesso pensiamo Se l'idea è buona Allora va tutto bene No se questo non è stato guidato da Dio Se questo non è stato Nato Nella volontà di Dio Allora questo Non giova niente Allora questo è volontà umana E lo spirito di Dio è venuto A rivelare questo a noi Che non è così Che noi guidiamo la nostra vita Per le nostre idee umane Questo è Essere guidato dalla carne Ma lo spirito di Dio viene a rivelare Noi siamo figli di Dio Noi siamo figli di un Dio eterno E lui ha avuto un piano eterno per noi E noi iniziamo in lui E avere Avere questa idea È vivere Pienamente la vita cristiana È quando Quando noi abbiamo capito Che inizia in Dio Perché se noi abbiamo capito Che si inizia in Dio Si finirà in Dio Perché la vita cristiana Non è Lo sforzo umano Che noi facciamo Per arrivare a Dio Perché avete visto Babbele? Babbele Era Un sforzo umano Di arrivare Il luogo dove Dio sta Lo sforzo umano E spesso noi ci troviamo In questa situazione Con questa prospettiva di vita Che noi ci dobbiamo sforzarci Per arrivare lì dove Dio sta Invece di capire Che non è il sforzo Per arrivare in Dio Ma è capire Che è Dio Che è giunto a noi Già prima E capire che Dio Ci è arrivato Già prima a noi Per il mio uso di Gesù Cristo E allora Questo crea in noi Una conscienza Questo crea in noi Una idea Da dove parte tutto Da dove si inizia tutto Da dove è la nostra responsabilità Con quello che abbiamo ricevuto Prima da Dio Perché lui dice Che lui ci ha amato per prima Non siamo noi Che abbiamo iniziato L'amore verso Dio Quando ci siamo convertiti Ma è lui che ha iniziato L'amore Già dalla fondazione del mondo Verso di noi Allora capire questo Deve creare in noi Questa prospettiva Di responsabilità Nella parola di Dio È literalmente Incarnare la volontà di Dio Su questa terra Così come Gesù ha fatto Se Gesù è l'esempio principale Il nostro scopo In questa terra È che noi incarniamo La volontà di Dio È che noi la conosciamo Prendiamo la volontà di Dio E la adempiamo Su questa terra Questo È vivere la vita cristiana E Davide ha capito Molto bene questo Principalmente quando lui dice Nel Salmo 139 Quando lui dice Io sono un essere formato Da Dio Dio ha iniziato Tutto con me Lui ha intessuto A me E lui ha capito Che lui dice Prima ancora Che io Era nato Dio mi aveva già chiamato Dio aveva già un proposito Per la mia vita Dio aveva già Un'idea Un scopo Per la mia vita Allora parte tutto da Dio E la stessa cosa è con noi E questo sentimento Possiamo copiare Benissimo da Davide Questo sentimento Di capire che Le cose Non partono Delle nostre idee E io vedo spesso Oggi noi credenti Abbiamo troppa idea Abbiamo troppa Immaginazione Troppa Idea umana Come fare Gestire le cose Nella nostra vita Allora noi partiamo Da noi stessi Noi stiamo Rivelando Su questa terra La volontà eterna Di Dio Siamo come il mondo Stiamo copiando Il mondo Allora dobbiamo Riflettere il nostro Senso di responsabilità Perché Dio non è qui Per adempire i nostri desideri È il contrario Noi siamo qui Dio ci ha chiamato Finché Noi facciamo la sua volontà Prima di tutto Ci riuniamo insieme Per conoscere questa volontà E Metterla in pratica Non solo qui dentro Principalmente fuori Di questo logo Questa è la rivelazione Che Gesù ha fatto a Giovanni Quando lui dice Io sono il principio E la fine Io sono l'alfa E l'omiga Perché lui è il principio E la fine Ha iniziato in lui Finirà in lui Se non inizia in lui Non finirà in lui Concetto in verità Molto semplice Però spesso Noi partiamo Nelle situazioni Nel problema Nella nostra comunità Partiamo spesso Dalla nostra idea Come Dio deve agire per noi Allora questo Non finirà in Dio Perché lui è l'alfa E l'omiga Io spero che noi Abbiamo conosciuto Già è l'alfa Perché molta gente Conoscerà solo L'omiga Molta gente Conoscerà Gesù Solo alla fine Della vita Io spero che questo Non sia Una cosa nostra Che noi Ci sforziamo A conoscere Questo alfa Adesso Perché chi Conoscerà solo L'omiga Ma sapremo dove finirà Perché non è iniziato In lui Allora dobbiamo Riflettere in questo senso Perché spesso Noi diciamo così Ah io amo Dio Se io vi faccio la domanda adesso Amate il Signore Sicuramente mi risponderei Sì sì Noi amiamo il Signore Però Noi non ci sforziamo A conoscere Quanto tempo Spendiamo quel Signore Quanto tempo Spendiamo Conoscendo la sua parola Leggendo la Bibbia Per conoscere Questa volontà eterna Se questo è il principio Di tutto Se questo che io sto dicendo È vero allora Allora devi partire lì Devi iniziare tutto lì Iniziare nella conoscenza di Dio Perché io mi immagino Alcuni incontri in cielo Che noi avremo Che sarà molto Scomodo per alcuni di noi Diciamo così che tu vedrai Il profeta Abba Kuk passare Tu farai così Perché se il profeta Abba Kuk Viene a te e dice Tu hai letto il mio libro Tu dirai Quale libro Tu pure hai scritto un libro Eh sì La mia profezia Non hai letto Cosa hai Hai pensato Quando hai scritto Il capitolo 6 Cosa ti è venuto in mente Tu dirai Dove mettere la faccia adesso Perché non so cosa rispondere Od Abdiah Il profeta Abdiah Che viene Ciao come stai Tu dirai Chi sei tu Ehi profeta Abdiah Hai letto il mio libro Ah tu pure avevi un libro Io penso che questi incontri Saranno poi scomodi per noi in cielo Allora è buono che evitiamo già adesso Non voglio questo per voi Per questo vi dico già adesso Che non sarà bello se voi in cielo Vedete il profeta passare E voi dite Non parlo che Non capisco Non so cosa lui ha scritto Non conosco la parola di Dio Allora per evitare questi incontri scomodi Ci sbrighiamo adesso Ci sforziamo adesso Per conoscere la volontà di Dio Perché noi abbiamo veramente Fratelli e sorella Una idea Molto sbagliata Cosa significa la benedizione Perché spesso noi leggiamo la Bibbia Per cercare un modo come Dio ci può benedire Come una formula magica E questo va totalmente contro la volontà di Dio La benedizione non è affinché tu possa fare Non è affinché Dio possa fare qualcosa per te O che tu possa godere questa benedizione O essere benedetto Non è per il scopo egoista tuo Ma anzitutto la benedizione è affinché tu possa fare La volontà di Dio Lui ti equipaggia Affinché tu faccia la sua volontà E noi cercammo spesso benedizione da Dio Affinché noi possiamo avere una vita più bella Una vita più facile Il Signore mi benedice là quando noi creiamo l'idea Io, partendo da me stesso Io farò, io andrò E quando siamo lì c'è difficoltà Diciamo, Signore mi aiuta E prendiamo tutti i versi delle promesse Diciamo, io sarò con te Ti procederò, ti farò prosperare Prendiamo tutti questi versi Fuori contesto per dire Guarda, il Signore è con me E vediamo qualcuno E il Signore dice Alleluia, gloria a Dio Vedi perché sono i problemi Ma è guai che noi stessi abbiamo cercato E Dio non farà questo Per questo viviamo a volte molti frustrati Perché siamo un po' delusi Che Dio non sta facendo Quello che noi abbiamo pensato che sarebbe giusto Perciò Nessuna benedizione Ha un senso personale egoista Nessuna benedizione Che Dio ha dato a noi È solo per essere sfruttata da me stesso Dio non ha dato benedizione per essere sfruttata Che io stesso goda la mia vita bella Ma Dio ci ha benedetti Affinché noi possiamo fare la sua volontà eterna Perché ogni talento Ogni dono Messo nella nostra vita È affinché questo possa beneficio Per tutti Così come Gesù Le benedizioni Quello che Gesù rappresentava Era e è Non era affinché questo portava beneficio a lui Perché se vi ricordate Come il diavolo ha tentato Gesù Il diavolo ha tentato Gesù Affinché lui possa dire Ehi mi benedici Signore Perché io ho fame Così io posso mangiare E questo sazza la mia fame E spero che noi riflettiamo questa volta Quando noi ci troviamo davanti a questa situazione Che chiediamo a Dio di aiutarci in questo Essendo che Dio ci vuole lì Proprio per essere usato da lui E noi vogliamo subito una via di scape E pensiamo che questa è la benedizione di Dio No, il diavolo ti può anche benedire Lui ti aiuta a dire Guarda, prendi il pane Mangia, sazia te stesso Non guardare gli altri Guarda solo il Signore Dimentica gli altri vicino a te in comunità Non è problema tuo E lui ha tentato Gesù In tutti e tre modi A fare questo O cerca un problema Buttati di qua Il Signore ti aiuta Noi intanto Abbiamo dei versi Lui è onipotente Lui ci aiuta È sempre con noi È nostro padre E non rendiamo conto a volte Che queste situazioni Possono provocare Un male intenso nel nostro vita Quando noi abbiamo Questo senso sbagliato di identità Questo senso sbagliato Dove è iniziato le cose E cosa facciamo per Dio E perché le facciamo Perché Dio ci ha dato un lavoro a noi Affinché mentre noi facciamo questo lavoro Noi capiamo la nostra identità Dio non ci ha dato un lavoro Affinché Lui sia aiutato da noi Perché Lui non riesce più a fare Quello che Lui deve fare Ci ha chiamato noi Lui ci ha chiamato Affinché facendo questo lavoro per Lui I culti che facciamo I servizi che facciamo Ogni cosa che facciamo per Dio Lui ci ha lasciato questo Affinché noi capiamo Chi noi siamo in Lui La nostra identità eterna La nostra chiamata La nostra natura E chi noi rappresentiamo in questo mondo Noi siamo ripresentanti Di un Dio eterno E noi non dovremmo essere la luce di questo mondo Io sono stanco già di sentire questo Ah dobbiamo essere No la Bibbia non dice questo La Bibbia dice Noi siamo O tu sei luce o tu non sei luce Forse è una luce piccola Grande Non interessa Tu sei luce Se tu sei figlio di Dio Se tu hai capito la tua identità Tu sei figlio della luce Allora tu non devi diventare Tu sei È importante capire questo Affinché noi veniamo trasformati Nel nostro senso di responsabilità E non solo nel senso Di quanti privilegi Dio ci può dare a noi Affinché noi diventiamo più ergoista No Dio vuole che noi siamo un popolo responsabile Un popolo che ha responsabilità E responsabilità è una parola che viene Dalla parola risposta Responsabilità viene dalla parola risposta Perché risposta? Perché quando noi rispondiamo Alla chiamata che Dio ha fatto a noi Con responsabilità Noi abbiamo un impegno Quando Dio ha fatto una domanda E Dio fa spesso questa domanda Chi andrà per noi? E noi rispondiamo Allora se noi abbiamo responsabilità Noi andiamo incontro a questa domanda Diciamo Manda a me Signore Eccomi Manda a me Perché chi dice eccomi Prende una responsabilità Risposto a questa domanda E dice Io prendo la responsabilità Di andare per il Signore E essere sul rappresentante Perché questa è la chiamata Che Dio ha fatto a ognuno di noi E quando noi con responsabilità Diciamo davanti al problema Che si crea nella nostra vita Io Sono il rappresentante di Dio In questo problema Quando il problema si presenta Nella comunità Io andrò per il Signore Quando il problema si presenta Nella lavoro Io andrò per il Signore Perché non andrò con testa mia Ma andrò Quel senso Che è partito da Dio E la mia volontà È dimostrare Incarnare la volontà di Dio Dice Io sono Soluzione per questo problema Non perché tu sei bravo Ma perché tu porti qualcosa con te E questo È il senso di responsabilità Nella identità Che noi abbiamo in Cristo Gesù È Lui che ci ha fatto così Non siamo noi Noi sappiamo bene Questo Non devo ripetere Che è per grazia Non meritavamo Ma Lui ci ha fatto Allora se Lui ci ha fatto Noi dobbiamo prendere responsabilità E non fare i troppi Troppi umili Che diciamo Ma non sai Ma è No Prendiamo le responsabilità Nei problemi Se c'è problema Noi siamo la soluzione Se c'è malattia Noi siamo la cura Siamo noi I figli di Dio Noi siamo Questa parola Responsabilità Deve essere presente Nella nostra vita Perché la parola dice anche Noi siamo una nazione Di principi I sacerdoti Se ci sono Qualcuni Che possono risolvere Il problema Nella società Questi siamo noi Non ci sono altri Siamo noi I rappresentanti Non aspettate che Come fanno le battute Sì Eccomi Manda lui Come dice Che signore dice Chi andrà per noi Eccomi Ma manda l'altro Questa irresponsabilità Con la chiamata Irresponsabilità Con la parola di Dio E dobbiamo smettere Di passare Questa responsabilità Sempre a Dio Dicendo Dio vai tu Dio Muovi tu Dio Dio sta dicendo No io ho dato Questa responsabilità A voi Voi siete i principi Sacerdoti Io vi ho fatti In questa posizione Affinché voi agite Adesso come principi Sacerdoti Allora Dobbiamo Vivere una vita così Se noi abbiamo capito Che è questo Noi siamo questi principi Sacerdoti Che vivono per fede E fede Non è per muovere La mano di Dio Fratelli e sorella Noi spesso diciamo Che la fede Muove la mano di Dio Mi fate vedere Il verso Che c'è questo Fino ad oggi aspetto La fede Non è per muovere Dio Per questo Dobbiamo cambiare La nostra prospettiva Della Bibbia La fede è per muovere te La fede è per muovere noi Noi ci muoviamo Per fede Guarda Ebrei 11 Quella galleria Della fede Che noi chiamiamo Loro Per fede Andavano Non è che loro aspettavano Finché Dio risolveva Il loro problema Perché Se la fede Muoveva la mano di Dio Vi ricordate Pietro E Gesù Se la fede Ha a che fare Con io ho fede E Dio che si muove Quando Pietro ha dubitato Doveva scendere Gesù sull'acqua Perché se Io ho fede Dio si muove In mio favore Se io non ho fede Allora Dio scende No La fede è affinché Io posso imitare Dio Pietro ha visto Gesù camminare Nell'acqua E Pietro per fede Imita Gesù Allora la fede È affinché noi Imitiamo il nostro Signore Fratelli e sorella La fede è affinché Noi prendiamo Questa risposta E diciamo Ehi io voglio imitare Il mio Dio Per fede Perché è per fede Perché noi sappiamo Che è grazia Non siamo capaci Non abbiamo Gli attributi necessari Allora è per fede Perché se noi pensiamo Che noi abbiamo Gli attributi necessari Allora noi non faremo Più questo per fede Non faremo questo Per volontà nostra Noi faremo Come il mondo E prima Giovanni 5.4 Dici Questa È la vittoria Che ha vinto Il mondo La nostra Fede È quello che vince Il mondo Noi vinciamo il mondo Con la nostra fede Perché la fede È qualcosa Che tocca a tutti noi Perché se io devo Contare con esperienza Se io devo contare Quando Avrò più Capacità Allora io non farò Questo più per fede Se vi ricordate Quando Davide Ha passato L'incarico La costruzione Del tempio A Salomone Lui dice Questa è un'opera grande È un'opera per Dio E non per l'uomo E chi farà questa opera Sarà il mio figlio Salomone Che è giovane E senza esperienza Mi immagino Oggi in giorno Una cosa così Un'opera grande Che è per Dio Mai Che noi penseremo A qualcuno Del gruppo giovane Perché il gruppo giovane È gente Giovane E senza esperienza Perché noi pensiamo Qualcuno che è adatto Qualcuno che ha fatto Scuola biblica Qualcuno che ha studiato Qualcuno che è laureato Allora sì È giusto Quando avremo tutte queste cose Noi faremo molte cose Ma non sarà più per fede Sarà per i nostri attributi Sarà per i nostri E Dio Vuol dire esattamente il contrario Che fede Quando noi Non dipendiamo Per questo tocca Molto anche i giovani E inesperiente Perché se io So che io sono giovane Non ho esperienza Allora c'è solo un modo Come fare questo Per fede Perché io non confiderò Più in me stesso Non confiderò più Nella mia capacità Io metterò Tutto nella mano di Dio Però cosa succede oggi? Nessuno vuole prendere L'incarico grande E quelli giovani Che vogliono prendere L'incarico grande Viene fatto come Davide Viene messo giù Dai suoi fratelli più grandi Dici Ah Tu vuoi solo Rovinare le cose Io so perché Io conosco il tuo cuore Io so perché Hai questa intenzione Io so perché Vuoi risolvere i problemi Io so perché Vuoi sapere le cose Sei un figanaso solo Interpretiamo subito Che le persone Vogliono fare le cose E non riescono a fare le cose Perché non hanno esperienza E spesso diamo i nostri problemi Ai dottori Ai psicologi A tutte le cose Perché noi non siamo capaci È giusto Questo atteggimento Non siamo capaci Sì Ma che va a finire lì No Ma che noi abbiamo La chiamata eterna di Dio Per risolvere il problema Tra di noi E questo ha fatto Davide Questo esempio Ci ha dato Davide a noi Davide è un esempio Di un uomo Giovani Ma con responsabilità E ci sono diversi aspetti In queste storie Che abbiamo letto E conosciamo già la storia Che parla di fede e responsabilità Perché Davide era questo giovane responsabile E Dio usa Davide secondo me Proprio per rompere in noi Questa idea Dell'apparenza Che è permesso dell'apparenza E Dio dice No Io scendo Davide Perché lui non è un uomo di apparenza Perché tutti guardavano la sua apparenza E lui veniva Minacciato per questo Perché era giovane E inesperiente Tu dice No Che vuoi fare No Tu non sei capace Lui è così E spesso noi abbiamo anche questo atteggiamento Verso le persone giovani Inesperiente Che diciamo Ah no Tu non sei capace Lascia che faccio io Noi guidiamo a volte i nostri figli anche così Noi vogliamo fare tutto per i nostri figli E non lasciamo loro Sviluppare la loro fede in questa Finché loro crescono E capiscono queste cose Finché loro Affrontano le situazioni Noi vogliamo già prima Risparmiare lui Perché la fede è per risparmiare noi dei problemi No La fede è per risolvere i problemi È che noi Facciamo così Sporchiamo le mani E ci mettiamo davanti i problemi Lui ha detto Davide in altre parole Problema della mia comunità È problema mio Perché un uomo che cammina per fede Si mette davanti i problemi Un uomo che vive per fede Non sta correndo da gigante Ma lui va incontro il gigante Va incontro le situazioni Un uomo per fede Si mesca nei problemi degli altri Anche Così come Davide Perché la Bibbia dice anche Portate i pesi Uno degli altri Come posso portare i pesi Se io non so neanche quale peso hai E portare vuol dire Che io mi mesco Dico Allora E quando io prendo la responsabilità Di dire È problema tuo Io prendo come se fosse mio E spesso un uomo che vive per fede Si preoccupa più In risolvere i problemi degli altri Che i suoi propri problemi Il buon samaritano Era problema suo o quello? Quello era un incrocio Problema suo o quello? Gli altri due? Uno che cantava nella lode L'altro che predicava Non ho tempo Non è problema mio questo Io devo servire il Signore E c'è il culto Per niente scambiare Come ha detto Dario all'inizio Come raffrontiamo i cambiamenti Nella nostra vita? Quando abbiamo le nostre abitudini Che devo Loro non si sono lasciati cambiare Perché c'era un uomo Per terra Che aveva bisogno Il prossimo Lo diceva No io devo cantare Oggi è un gruppo di giovani Un culto di giovani Non posso perdermi tempo E noi Lui ha preso questo Problema come essendo suo E ha risolto come essere Un figlio suo E questa è la fede Non è che Noi a volte abbiamo l'idea Che Dio ci risparmiarà Dei problemi Che usiamo la nostra fede Preghiamo a Dio Per dire guarda Togli il problema Della nostra vita No fede è per mettere Per mettere noi davanti E gli altri due E gli altri due che sono passati Avanti Odi è questo Esaia 58 Se leggete a casa dopo Parla proprio di questo Dio dice Ah voi state sempre a lodare A chiamare me A pregare A fare le lode Ad orazione E il nudo continua nudo E l'affamato Continua affamato E voi siete qui Tutti a guardare Alla stessa direzione A chiedere questo E quello al Signore E Dio ci esorta In Esaia 58 Dicendo Non è questo Che io voglio Perché mentre voi fate questo Ci sono gente Che stanno morendo E voi passate davanti a loro E lasciate perdere questo Perché voi avete ancora Un servizio Per fare a Dio E sai Non ci possiamo mischiare Nelle cose Fratello Ognuno per i fatti suoi Ognuno per i fatti suoi Tu risolve il tuo problema Io risolvo il mio problema Non è questo Che Dio vuole da noi Fratello e sorella C'è un testo Nei proverbi Che dice così Noi lo interpretiamo Questo così male Ma Veramente Che dice così Chi si riscalda Per una contesa Che non lo concerne È come Chi afferra Un cane per l'orecchia Allora diciamo così Vedi fratello La Bibbia sta dicendo Non ti devi mischiare Nei problema Ma non è questo Che il testo Sta volendo Rissaltare a noi Non è che noi Non dobbiamo Meschiarsi nei problemi Altrui Ma se quando noi Ci meschiamo Dovemmo meschiarsi bene Perché quando tu hai Un po' di responsabilità Quando tu diventi Maturo Quando tu sa Cosa significa Un cane per strada Quando tu hai Dei figli E vedi che un cane Passa vicino ai tuoi figli Possono Muzzicare O mordere il tuo figlio Tu sei un uomo Di responsabilità Mai che tu guarderai Questo Non è problema mio Se tu sei Responsabile Allora il testo dice Non prenderlo per l'orecchia Perché se tu prendi Per l'orecchia Tu farai più danno Allora quando raffrontiamo Il problema Non prendiamo il problema Per l'orecchia Lo prendiamo per la gola Prendiamo per la barba Dove sia Ma lo prende Il problema giusto Non vuoi incitare a noi A non risolvere O non mischiarsi Nei problemi Ma vuoi incitare a noi Quando tu farai questo Faccia bene questo Fai attenzione Solo Per questo Ognuno Adesso inizia Sì andiamo Facciamo forse più problema Ma non andiamo Dall'altra simitra Che sì Io non sono capace Di prendere Il cane Allora lascio perdere Non andiamo All'estremità E' questo Che il testo Vuoi insegnare a noi A essere saggi Perché sapete Come un ex sindaco Della città di Nova York Ha risolto Una gran parte Del problema Della violenza domestica E violenza generale Lui si chiamava Rudolf Si chiama Rudolf Giuliani Lui ha ridotto Grandemente La violenza Nella città Sai come? Lui ha combattuto Proprio questo detto Che noi pensiamo Ognuno per i fatti suoi Lui ha detto No basta con questo Sapete perché? Perché Quello che alimenta La violenza domestica È questo Mentre questo succede In un ambito Chiuso A casa O nella mia relazione Gli altri Gli altri non hanno niente A che fare con questo Vuoi dire Non vi meschiate Allora È problema mio Allora Questo incita La violenza Che dice Io faccio qui Nessuno si meschia Alla fine E lui ha risolto Questo problema Dice Non vi meschiate Allora Nel problema Maltruidi Questo non va Chiamate la polizia E questo ha combattuto Grandemente La violenza In generale Perché molte persone Odino la Svizzera Oggi in giorno Perché ogni sbaglio Che tu faccia C'è un vicino Che guarda E dice Oh Parcheggiato male E frate Non ci piace Sì Ma questo è giusto Perché sta portando Disordine Voglio vedere un giorno Che le persone Vengono in nostra comunità E iniziano a fare disordine Qua Tu guardi E dici Oh Non è problema mio No No Prendiamo la risposta E dici No Io ho visto Allora Io sono parte Di questa situazione Allora Noi siamo parte Perché noi Agiamo per fede Non è perché Agiamo per le nostre capacità Ma sappiamo Che abbiamo un Dio Che è con noi In questa situazione Quando dici Dio è con te Non è per dire Allora fai tutti I problemi Che Dio ti aiuta Dio è con te E proprio in questo Quando noi siamo Davanti ai problemi Per risolvere Per prendere responsabilità Dio dice Vai risolvi tu E io sono con te Non ti preoccupare Non è che Dio è con te Dai Lui mi benedisce Mi aiuta A avere Un lavoro migliore Solo in questo No Fede È proprio Per metterci davanti Queste persone Fede È affinché Noi Sporchiamo Le nostre Mani Noi Siamo un popolo Che si mischia Nei problemi Sì La città di Winterthur C'è principi I sacerdoti Qui dentro E se noi non capiamo questo Allora non siamo principi e sacerdoti Noi siamo codardi Siamo codardi allora O noi siamo O non lo siamo Se lo siamo Rappresentiamo questo Dio Se non lo siamo Non c'è un problema Puoi diventare Per questo ci riuniamo qui Affinché questo senso di responsabilità Sia cambiato nella nostra mente Affinché noi abbiamo un'altra prospettiva di fede Un'altra prospettiva di Dio Noi siamo figli e sacerdoti di Dio Un altro punto Che in queste storie mi fa capire È che quando noi camminiamo per fede con il Signore I problemi sempre aumentano Non è che i problemi diminuiscono Ma I problemi aumentano E fede non è per dare a noi una vita senza problemi Ma fede affinché noi possiamo Passare di un problema piccolo a un problema più grande Il problema Come una clinica Non è che la clinica inizia a trattare il cancro E dopo passa mal di testa No La clinica inizia con mal di testa Se è buona Passa a un livello superiore E vai sempre migliorando La stessa cosa noi Noi trattiamo i problemi più difficili Le cose piccole Rimani perché ha meno fede Non rimani per te Perché tu hai fede E le cose più grandi rimangono per te Allora fede Affinché noi passiamo Di problema E problema Si inizia con il leone Passa l'orso Per arrivare ai giganti E questo è la nostra vita Questo esempio che prendiamo In Davide Perché se tu pensi che è diverso questo Allora forse ha creduto in una bugia Forse ecco non ha conosciuto la parola di Dio E ha conosciuto qualcuno Che ti ha raccontato qualcosa Perché questo è il scopo della fede Affinché i problemi crescono E noi per fede In Dio Quello che lui ci ha messo in noi Non per esperienza nostra Per fede Noi risolviamo i nostri problemi Secondo la volontà di Dio Il ministero di Gesù Se osservate bene Cresceva sempre complessità Cresceva sempre complessità Noi a volte Abbiamo Un'idea un po' così La mia identità Non parliamo di identità chiamata Si presenta un leone davanti a noi Noi diciamo No signore Io non sono Daniele Manda questo leone alla cova E questa è la nostra preghiera No Qualcun angelo ha sbagliato Io non L'orso non è mio Io non sono Eliseo Per A che fare con l'orso No 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 E noi cerchiamo sempre Di scappare delle cose No Viene un gigante No io non sono Davide Signore Ehi Guai a me Ehi Chi sono io Poverino No Fede E affin Che noi Mettiamo la mano Sopra il problema E che noi prendiamo leone Per la barba E diciamo Se lui non lascia Quello che non appartiene a lui Io lo prendo lui Per la barba Non per l'orecca Per la barba E gli diciamo O tu lasci O non ci afferriamo qui Fino alla fine La fede E affinché noi mettiamo le mani su E affinché noi cresciamo In complessità E affinché noi usciamo da questa idea Troppo Spiritualista Che Dio risolverà tutti i problemi per noi E cercare lui in preghiera per questo No E affinché noi Mettiamo la mano su Affinché noi ci sporchiamo le nostre mani O pensate Che Davide Ritornava a casa Con i vestiti tutti puliti Dopo afferrarsi con un leone Non pensate Quelle fede Non è affinché tu Con quelle spirituali Il Signore viene Boom 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 E tu non hai fatto niente No Tu non puoi Prendere un leone per la barba E ritornare a casa pulito Fratello Sorella Non puoi ritornare pulito Non puoi cercare Dio adesso Per che la tua vita sia tutta pulita Non va bene questo Le veste di Davide sicuramente Ritornavano sporche e strapata Vai vedere Gesù Nel suo momento più glorioso Le sue vesti sono state fatte a pezzi Il nostro Signore fu crucifisso nudo Nudo fratello e sorella Le sue vesti furono fatte a pezzi Perché lui era un uomo di fede Però lui ha vinto Ha vinto Il Signore ha vinto Non abbiamo questa immagine Nella mente Ma lui fu crucifisso nudo Sapete cosa significa questo Il nostro crucifisso nudo Perché dovevo vedere Che quello non era incirconciso Era circonciso Perché era figlio Di Dio vivente Noi abbiamo messo qualcosa davanti Perché il nostro pudore evangelico Ma noi si doveva vedere Che quello sì Non è un incirconciso Quello è stato circonciso Perché questo c'è una relazione Di amore Con suo padre Nudo lui fu crucifisso E la fede non ha risparmiato lui La fede ha dato lui La capacità di andare Per mezzo dei problemi E vincere Perché cosa ti ha promesso lui? Lui ti ha detto Che ti daranno un schiaffo Lui non ha detto Abbi fede che nessuno Ti dà un schiaffo nella vita Io ti proteggerò No Lui ha detto Tu riceverai un schiaffo No Tu riceverai due addirittura Però Per fede Tu non ti corromperai La fede ti darà la forza Fratelli La fede darà a noi forza A non corrompersi Davanti alle situazioni Affinché noi rimaniamo fermi Nella nostra chiamata a Dio Affinché noi Perdiamo questa paura generalizzata Che è creata nella nostra mente Di raffrontare il problema E sempre chiedere aiuto Del Signore Per intervenire in modo Spettacolare No Metti la mano su Metti la mano Prendi il leone Prendi il orso Prendi il gigante Vai per fede Andiamo per fede insieme Affinché i problemi Siano risolti E non lasciamo Non lascia il leone Finché lui non lascia Quello che lui ha preso in bocca Non lasciamo il problema Finché non sia risolto Affinché per fede Noi possiamo vincere Noi possiamo vincere Perché è questa fede Che vince il mondo Non siamo noi che veniamo vinti Dal mondo Perché quando facciamo In testa nostra Veniamo vinti dal mondo Ma siamo noi che vinciamo Per fede Nel nome del Signore E Davide ci ha fatto vedere qui Ogni problema del mio popolo È anche problema mio Io sono un uomo Di responsabilità Sono venuto Per vedere la volontà di Dio Essere fatta E se nessuno di voi Volete questo Io lo voglio Lui non ha guardato Nessun altro Smettiamo di riclamare Perché non ci aiuta Tizio Non ci aiuta Ma guardiamo che La fede Sia per portare noi A dire Non volete Davide adesso Nessuno vuole l'utare Con il gigante Vado io allora E questa è la responsabilità Che noi prendiamo E smettiamo di evitare I problemi Nella nostra vita Sia con noi stessi Come ho detto Ma sia anche Con i nostri figli Volevamo risparmiare L'esperienza E i giovani Crescono oggi Perché noi come genitori Diciamo Dai Alla scuola dominicale Guarda Il gruppo giovane Dopo guarda Dopo Dario e Dio Abbiamo da fare Va bene Noi sporchiamo la mano Volentieri Ma ci sono cose Che si fa A casa Ci sono cose Che si risolve A casa Che noi Siamo una comunità E noi Portiamo i pesi Uno degli altri Non diamo i pesi Uno agli altri Portiamo i pesi Uno agli altri Dobbiamo cambiare Questa prospettiva Voglio concludere Con un esempio Solo per fare Capire a noi Un po' Un po' In un senso più forte Cosa significa questo Di identità Di chiamata Di questa responsabilità Io trovo molto importante Che secondo me Una grande crisi Che la chiesa ha oggi È capire da dove vieni È capire il nostro Senso eterno Che Dio ha messo in noi E per questa volta Abbiamo molta difficoltà Di agire Per fede Questa guante qui Questa guante qui È stata fatta Alla immagine In somiglianza Di cosa? Della mano Questa guante Questa guante qui Non agi per conto proprio Vedi com'è questa guante Però è stata fatta All'immagine In somiglianza Di qualcosa Però quando questa mano È nel suo proposito Questo è il proposito Della guante Cioè Avete un altro proposito Per guante Forse mettete sotto Tavolino Non lo so È perché spesso Questo che facciamo Noi cerchiamo altri propositi Per le cose Che Dio ha dato Un proposito Per queste guante O chi ha creato Queste guante Ha dato un proposito È la immagine In somiglianza Della mano Lo so che avete capito già Quando questa mano È nel suo proposito Adesso questa mano È piena Questa guante È piena Questo è pieno Di quello Che lui ha fatto Per essere riempito La stessa cosa Con noi Fratelli e sorella È quando noi Veniamo Riempite Da quello Che ha fatto Noi L'immagine In somiglianza Noi siamo Immagine In somiglianza Di chi? Di Cristo Allora quando Cristo Viene Entra in noi Allora questa mano Se voi guardate adesso Voi vedete solo la guante Voi non vedete Cristo In sé Però quello che riempie Questa guante La guante in sé Da sola Non fa niente Può usare il maso Per dare un schiaffo A qualcuno Tenere così Ma Non è nel suo proposito Si può usare Ma non è nel suo proposito Allora il proposito Di questo È che viene riempito Per questa mano E chi agisce adesso? Chi è che sta agendo qua adesso? Non è la guante E spesso Non pensano Sì è io che sto facendo Io No non sei tu Tu sei solo una guante Solo una guante Mettiti questo Tu sei una guante E se tu non ti lasci Essere usato da Dio Nel tuo proposito Nella chiamata Che Lui ha fatto a te Tu sarai solo una guante Vuota E mettere mezzo mano qui Noi sappiamo che Il nostro Signore Non fa mezzo cosa O Lui viene Entra Riempie te E tu sei usato Nel proposito Che Lui ci ha chiamato O lascia perdere questo Fratello e sorello Lasciamo perdere questo Adesso O ci impegniamo veramente Da essere riempiti Di quello Che ci ha creato La sua immagine Non è a caso Che Lui hai scritto questo È la sua immagine In somiglianza Tu puoi cercare Ogni cosa Su questa terra Che non riempirà Il vuoto Che tu hai Nel tuo cuore L'umanità cerca In diverse cose C'è solo uno Che può riempire Il vuoto Del cuore dell'uomo E questo si chiama Cristo Gesù Cristo Gesù Perché Le persone Cercano in diverse cose E a volte Noi copiamo il mondo Cerciamo altre cose Anche Ah quando farò questo Sarà felice Quando il mio marito Cambierà La mia vita Sarà felice Quando la mia moglie Mi obbedirà Dio non ci ha chiamato A guardare gli altri In questo aspetto Dio ci ha chiamato Che noi veniamo pieni Di Lui Affinché noi siamo pieni Anche Nel nostro proposito Amém Amém